Allora, al contrario di cosa avete imparato, voglio essere un pochettino diverso, cosa avete imparato nel corso di istruttori, molti saranno istruttori di primo livello, di secondo livello, allenatori... No, no, tutti primo livello, tutti primo livello... Vabbè, tanto in Italia... No, ma vabbè, ma... La FITACO effettivamente fa un corso di primo livello di alto livello, c'è pochissima differenza tra il primo e il secondo livello, al contrario di molti altri sport dove effettivamente il primo livello non è altro che un promotore sportivo, no? Quello che deve, insomma, indirizzare, non far far male alla gente... Invece il corso di primo livello FITARGO è di un ottimo livello, quindi può già portare alle costituzioni i propri arcieri. Il secondo livello approfondisce molti degli argomenti che comunque sono già stati visti, ma non è che ne mette di nuovi, se non forse anatomia... Il secondo livello approfondisce molti, sapete già tantissimo il corso di nuovo. Quindi dovete conoscere già alla perfezione quelli che sono i caratteri fondamentali dell'archeoro là, che verranno detto, no? Quindi lo statico, lo coordinato, lo scontanti e i regnamenti. Ecco, io invece voglio un po' portare i fondamentali su quello che è un po' la situazione di tiro, no? Poi alla fine della fiera quello che ci interessa sapere è che ci sono delle cose ben specifiche da fare e vanno fatte nel nuovo livello. Anche perché noi dobbiamo poi prendere, io qua ho messo queste tredici passi dei fondamentali, dove noi possiamo però scomporre ogni singolo passo in tutto quello che ci sta dentro, no? Quindi ogni singolo passo dovrà essere scomporre. Poi parleremo anche della sequenza di tiro, ok? E' un'altra cosa la sequenza di tiro, perché la sequenza di tiro non è data, forse qua il secondo livello approfondisce un pochino di più, la sequenza di tiro non è data solo da passi fisici, da quelli che sono i forse fondamentali, ma la sequenza di tiro è fatta da una sequenza di pensiero. Questa è la cosa più importante, ma ne discuteremo quando vedremo, discuteremo la mia sequenza di tiro e la mia sequenza di pensieri. Allora intanto il posizionamento, il posizionamento che è il mio statico, ma è inutile che ne parliamo, lo conoscete alla perfezione. Io consiglio sempre di andarci a cercare grande, come vediamo in giro per gli olimpici, ma di posizionarci. Voi fate mente locale a come si posizionano i compound, a cavolo, è vero? Come gli viene comodo, ok? Nell'altro punto è uguale. E' bene che non stiate troppo, fate trovare ai vostri allievi vari tipi di posizionamenti. Anche col piede indietro, vedo che qualcuno ha col piede indietro perché preferisce sistemarsi meglio. Va bene, è uguale, non formatevi un modello nella vostra testa per quanto riguarda il posizionamento. Il posizionamento, l'equilibrio statico deve essere corso. Una volta che io sono in posizione, come dice il corso, piedi paralleli a cavolo della linea di tiro all'altezza delle spalle, spalle riflessate. Non è che una volta che avete insegnato questo ai neopiti poi cambia qualcosa. E' la cosa migliore, piedi paralleli a cavolo della linea di tiro all'altezza delle spalle, spalle rilassate. Questo è l'equilibrio statico. Poi possiamo discutere sui piedi che sono delle radici nel terreno che affondano e che ti rendono una quercia. Sì, va tutto bene. Piedi paralleli a cavolo della linea di tiro all'altezza delle spalle, spalle riflessate. Eh, ma se io tiro in posizione aperta con le anche, perché? Perché dobbiamo inserire variabili? Siamo più istintivi. Il nostro corpo umano è in grado di rendere più meccanicamente efficace qualsiasi gesto, perché ce l'ha nel suo DNA. Quindi cominciamo ad attuare questa regola. Poi eventualmente delle leggere personalizzazioni le possiamo poi fare. No, mi raccomando, non fissatevi un metodo, un modello che avete voi in testa, perché sicuramente non va bene. Adesso lo danno. Sarà sicuramente sbagliato, ce ne sono mille, mille, mille. E vedremo. Incocco e stringhe. Beh, incocco e stringhe. Io consiglio sempre, quando incocco, allora intanto io come parto? In questa maniera, incocco in questa maniera, poi mi riporto in posizione. Mi riporto in posizione e non vado a fare questo movimento. Perché se dovessi fare questo movimento per tutte le 150 frecce che tiro, sono un po' di altro. Quindi non devo fare altro che, non devo fare altro. Ecco. E faccio il mio string. Il metodo di fare string, non ve lo devo insegnare, lo sapete. Fare meglio di me e poi alzerò su largo e passeremo alla prefrazione. Ah, contatto con la grip, anche qua, contatto con la grip. Cosa insegnate ai miofidi? Nocchia a 45 gradi. Palmo della mano, deve toccare la grip di qua nella linea della vita. È vero? Raccontate questa storiella ai tutti i neoni. La raccontate tutti o raccontate qualcosa di diverso? No. Allora, mi spiegate perché, finito il corso, fanno come cavolo vogliono? Sono finito. Perché io vedo continuamente archiludi che tirano così? Perché? E gli struttori tutti zitti. Ma scusa, le avete insegnato che tirano in questo modo, il modo biomeccanicamente più efficace, che è la cosa che... Vi avete anche spiegato il perché, no? Sicuramente vi avete spiegato il perché, no? Meno superficie di appoggio, meno leve, meno torsione. Il punto di pressione deve essere in linea con questo osso che si chiama radio, che con l'omero e con la spalla vedremo cosa succederà. Ve l'avete spiegato. E' così. L'apocalisse. E vedremo perché poi avviene questo. E avviene perché uno... Perché avviene? Perché uno si sente meglio. Non è che lo fa per sbagliare, no? Alla fine sposta la mano in questo modo e si sente meglio. Si sente meglio, e vedremo, si sente meglio perché? E' lecito? E' perfettibile? Che implicazioni dà? Ci ritorneremo. No, scusa. Le mie responsabilità sono della... Che negli archi... Si è un ammetto. Sono un ammetto. Sono un ammetto. E così è un ammetto. E così è un ammetto. Allora, grazie. E qua entrate in gioco voi, perché i costruttori di archi, ahimè, i costruttori di archi non capiscono una beata niente. Senti che ridistrappa, eh? Io ho parolacce fino adesso... E mi ha guardato me, se è ridistrappa. La ditta col cuore, bro! Fino adesso non ho detto parolacce e non riderò fino alla fine. Allora, sappiate che questa grip, questa grip qua, è la grip del Green Horn. Cioè, chi ha fatto il Green Horn ha fatto questa grip qua. E' la grip che veniva, adesso non, il Green Horn viene più prodotto. E' la grip per l'arcerico ovviamente a destra, è la mia grip che avevo sul Green Horn. Cioè, che ho ancora il Green Horn. Il Green Horn Sirius, che è uno degli archi più utilizzati dai campioni. Quello, comunque, era più utilizzato al mondo. E la grip è stata evoluta sull'arco nudo in base alle indicazioni di tutti i più grandi campioni del mondo. Perché io ho parlato con quel tipo del... E la grip è stata fatta in base alle indicazioni che Terry Johnson, che Marty Watson, che tutti di quelli, Giuseppe 6 bandi, eccetera, 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 hanno dato al produttore per fare questa grip. Ok? Se volete riferirla. Quindi quella grip è stata fatta in modo tale da essere biomeccanicamente efficiente ed efficace per quanto riguarda il Green Horn. Perché il Green Horn è diverso. dal... Da quello che è... Non solo, non solo, ma fino a... Io poi sono venuto... Mi è venuto in mano... Un... 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 Ero già sicuro di quello che... Perché io ho tirato Olimpio negli anni 90 e ho un Radian, un aumento... Unucharadio... La cui pungettura più o meno è coming thewin modelo. Successivamente a Radian, nel due negli anni 2000, hanno fatto eu Crowe Taval. e l'impugnatura era più o meno come quella dal 2006 in avanti tutti i produttori grazie ahimè a Golden Touch che mi è venuta questa idea presumo dalla Corea comunque è venuta questa idea di fare l'impugnatura per arco olimpico e ahimè anche per arco olimpico così è vero o no? è vero o no? con un angolo di torsione clamoroso non solo con un angolo di torsione clamoroso ma con la faccia completamente al contrario e tutti i produttori anche archi nudi anche spiganesi anche tutti tutti gli archi nudi anche ahimè smart riser e qui gli dissi ma questa impugnatura non va bene come non va bene? OIT la fa così e io cosa potevo dire? chi sei te? il comprobato OIT per dire così io ho preso la mia lima l'ho limata ben bene bene anche l'alluminio limato e l'ho fatta diventare come quell'impugnatura lì perché prima era così ed è fatta proprio per essere con spalla estroflessa come si usa adesso anche nel compagno adesso si usa molto la spalla estroflessa quindi spalla estroflessa impugnatura all'interno allineamento allineamento diagonale verso il bersaglio ma sull'arco mondo ahimè questo non si può fare non si può più fare e vedremo perché non si può fare non è non è non si può non si può fare perché è peggiorativo no? noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa che è biomeccanicamente compatibile con l'azione che dovremmo fare quindi biomeccanicamente deve essere compatibile con l'azione non possiamo avere un modello che va bene per qualcos'altro no? non possiamo usare i fondamentali della palacanestro nel gioco del calcio e viceversa perché se vanno bene una parte non è detto che vanno bene dall'altra la stessa cosa vale per l'arco 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 tanto per chiudere il discorso sul fatto olimpico arco l'arco l'arco dimmi quando tanto per chiudere il discorso olimpico arco l'arco l'arco perché uno può dire più o meno olimpico arco l'arco l'arco sì c'è la stabilizzazione ma c'è questo clicker però alla fine è uguale ahimè no è completamente diverso l'arco l'arco è un'altra cosa è completamente un'altra cosa e vi dirò di più si avvicina di più al compagno sia come mentalità che come effettivamente utilizzo muscolare a ragione di quello che vi dico io se cercate su youtube io vi posso anche dire il link è una tappa di coppa del mondo è una tappa di coppa del mondo quindi no è una tappa di coppa del mondo alla fine delle gare Brady Ellison Jean-Charles Valadon e René Serrano che ovviamente tutti conoscete no? sono i più forti tra i tre più forti tiratori del mondo Jean-Charles Valadon medaglia d'argento olimpica Brady Ellison medaglia di fronte olimpica René Serrano vincitore di una finale di coppa del mondo o comunque di una gara di coppa del mondo si sono sfidati ad arrotto si ed è stato tutto ripreso dalla World Archeri e sul sito di World Archeri sul sito youtube di World Archeri c'è questa sfida che è stata fatta fra i tre big top archeri cosa hanno fatto? hanno smontato il loro il loro arco quindi hanno tolto tutta la stabilizzazione hanno sfilato il mirino hanno inserito la freccia senza alcuni e si sono sfidati come a 30 metri su una visuale da 122 allora stiamo parlando di Brady Ellison stiamo parlando di Jean-Charles Valadon di René Serrano no? no? di non lo so chi allora puh uno alto pum due a destra pum due a sinistra quattro cinque ripeto a 30 metri su una visuale da 122 questo cosa significa? significa che non è immediata la cosa che uno tutto sommato dovrebbe dire beh perlomeno tiro tre frecce nello stesso punto ovunque esse siano contro miro miro nel lulo basso ancora sempre uguale che così poi hanno fatto ma le frecce sono andate dappertutto perché non avevano più la stabilizzazione non sapevano più come regolarsi il loro corpo non capiva più niente quindi per dirvi che effettivamente c'è una grande differenza per quanto riguarda l'arco olimpico è molto più facile che un altro punto tiro olimpico senza fare grandi danni che viceversa detto questo avete visto le impugnature? avete visto la differenza che c'è? ora volevo farvi vedere un'impugnatura mancina che un'impugnatura mancina andrebbe bene questa è un'impugnatura la mancina se voi la utilizzate con la sinistra quindi da destro vedete che andrebbe perfettamente bene per l'arco olimpico qui ahimè lo dico ancora una volta non fateci comprare tutte queste linee se volete vi presto il impugnatura che il greenhorn montava che andava benissimo io sono il greenhorn ma quant'è la tonda? non è vero che ho fatto la mia era fatta molto tonda sì ma te c'hai quella del 1800 vabbè questa è quella del mio e quella che avevo anche segnato io uno dei tuoi avevo comprato avevo proprio una scheda va bene allora